Abbiamo scelto una società importante, una società che comunque ha ambizione, una società solida. Questo per un allenatore è un aspetto fondamentale. Io penso che i proclami non vadano bene, in senso i proclami e gli obiettivi vanno lavorati quotidianamente sul campo, piuttosto che fare proclami. Quello che penso è che la stricella per conquistare qualcosa in più lo dobbiamo conquistare perché? Perché lavoriamo più degli altri, perché abbiamo più fame degli altri, più cattiveria degli altri e più motivazione degli altri. Io non sono di quegli allenatori che arrivano in una società e portano la lista della spesa, che penso che non sia rispettoso né per chi lavora in questa società né per i miei giocatori che hanno fatto parte. Di sicuro con la società ci siamo già seduti e è un lavoro in divenire. Parleremo per avere comunque dei giocatori funzionali alla società e anche al progetto, che in primis sono uomini. Io penso che chi viene a giocare la boghiera, da quello che penso io, non debba venire per questioni economiche. Debba venire qua perché risposa il progetto, è orgoglioso e ha senso di appartenenza. Se non ci sono questi tre requisiti, per me non è un giocatore che può far parte della rosa o dell'altra boghiera. Non devono dormire la notte del sabato perché devono pensare che giorno dopo giocano contro il boghiera o contro determinati giocatori della squadra. Questo per me è fondamentale. L'orgolo, il senso di appartenenza dei miei giocatori deve essere così.